Ben tornati su Sicilia 24 per questo nuovo appuntamento con spazio e notizia. La cronaca in primo piano partendo da Custonaci nel Trapanese, dove i carabinieri durante un controllo hanno fermato e poi denunciato due giovani. Erano infatti in sella a uno scooter, risultato poi rubato, e in tasca avevano coltelli e due passamontagna. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Custonaci hanno denunciato per il reato di ricettazione e porto di armi o d'oggetti atti a offendere due soggetti di paceco appena maggiorenni con precedenti di polizia. I militari dell'arma, impegnati in un servizio serale di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati predatori, hanno notato i due giovani a bordo di uno scooter privo di targa, i quali alla loro vista hanno aumentato la velocità cambiando spesso direzione tra le vie del paese. Insospettiti da tale atteggiamento, i carabinieri li hanno bloccati procedendo al controllo dei documenti per l'identificazione. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo senza targa sul quale viaggiavano era oggetto di furto. Sottoposti poi a perquisizione, sarebbero stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico, due passamontagna e tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dagli operanti, mentre il ciclomotore è stato prontamente restituito all'avente diritto. Da Custonaci a Siracusa continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della stazione di Cassibile hanno tratto in arresto un pregiudicato 37enne del luogo per espiazione della pena detentiva, a seguito della revoca dell'affidamento in prova emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L'uomo, riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato commesso a Siracusa nel 2018, deve espiare la pena residua di tre mesi e 24 giorni di reclusione. Pertanto, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Ed ora nella Catanese cambiamo ancora argomento. Parliamo di un intervento della Guardia di Finanza che ha sequestrato ben 30.000 giocattoli non conformi e quindi potenzialmente pericolosi. Il sequestro è avvenuto all'interno di una ditta gestita da un cittadino cinese che ovviamente è stato sanzionato. Vediamo il servizio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito del dispositivo posto al contrasto delle condotte illecite di contraffazione di marchi e brevetti, di immissione in commercio di prodotti non sicuri, di falsa o fallace indicazione dell'origine o della provenienza delle merci, hanno eseguito un intervento nel settore della sicurezza prodotti e della conformità della marcatura CE, attestante la qualità degli articoli posti in esposizione per la vendita al pubblico, sottoponendo a sequestro amministrativo circa 30.000 articoli non conformi, costituiti da giocattoli per bambini, quali macchinine, giochi ad acqua, pupazzetti, bambole, pistole e costruzioni. I finanzieri della compagnia di Caltagirone hanno ispezionato una ditta individuale gestita da un cittadino di etnia cinese allocata nel comune di Vizzini, rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti non conformi alle vigenti normative comunitarie attestanti gli standard di sicurezza e qualitativi previsti in seno ai prodotti ludici da destinare ai bambini. Tale risultato ha permesso dunque di contrastare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti non sicuri e quindi potenzialmente pericolosi per composizione e qualità, bloccandone la successiva immissione in commercio nel distretto del Calatino, a dimostrazione della grande attenzione del corpo verso la repressione di tali fenomenologie illecite. Al termine delle attività, l'esercente di origine cinese è stato segnalato alla Camera di Commercio del sud-est Sicilia per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa, mentre i prodotti non sicuri sono stati posti in sequestro amministrativo e ritirati dal mercato al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, nonché la leale pratica concorrenziale di mercato. Controlli della Polizia di Stato nella provincia di Caltanissetta, controlli che hanno portato alla denuncia di ben 13 persone per vari reati, ma non solo, gli agenti della Polizia hanno anche sequestrato della sostanza stupefacente. Vediamo il servizio. La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, ha denunciato 13 persone all'autorità giudiziaria, eseguito 12 perquisizioni e sequestrato a scisce e cocaina. Due persone, un quarantenne e un ventiquattrenne, sono stati deferiti per porto di armi o d'oggetti atti a offendere. Il primo, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di due bastoni che teneva in auto, il secondo invece in possesso di un coltello. Un trentenne è stato denunciato per abbandono di minori, un ventiduenne per il reato di atti persecutori e un quarantaseienne per il reato di diffamazione. Quattro persone sono state invece deferite per reati concernenti sostanze stupefacenti. A un diciannovenne, gli agenti hanno sequestrato 26 grammi di cannabinoidi, a un quarantenne è stata sequestrata a cocaina e a due ventenni, hashish. Altre quattro persone sono state denunciate rispettivamente per minacce, calugna, procurato allarme e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, infine, sono state eseguite dodici perquisizioni personali. I carabinieri della compagnia di Cammarata, ci spostiamo virtualmente nell'Agrigentino, hanno tratto in arresto una ventottenne residente a San Biagio Platani, soggetto già noto alle forze dell'ordine e attualmente sottoposto ai lavori di pubblica utilità presso il comune di Alessandria della Rocca. Il giovane è accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il lavventottenne, infatti, sottoposto a una perquisizione personale da parte dei carabinieri, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish, sostanza stupefacente, che era già pronta per essere spacciata. Pertanto il pusher, dopo le formalità di rito, su disposizione della procura della Repubblica di Sciacca, è stato posto agli arresti domiciliari. Mettiamo per un attimo da parte la cronaca. Parliamo adesso di calcio e del Palermo, che arriva da una grande vittoria nel campionato di Serie B. Un successo di assoluto prestigio al Barbera contro il Bari. 1-0 il risultato finale per il Rosanero, con gol decisivo di Marconi. Una vittoria che rilancia le ambizioni del Palermo anche in chiave play-off. A fine partita, mister Corini ha esternato ovviamente tutta la sua soddisfazione per questa importante vittoria. Oltre all'allenatore del Palermo, ha parlato anche l'autore del gol decisivo, Marconi. Sentiamoli. Questa vittoria nasce dopo il primo tempo di Perugia, nello spogliatoio, dove abbiamo fatto male, abbiamo avuto tante difficoltà. Ma vedevo che c'era lo spirito giusto e ho chiesto ai miei ragazzi di lottare insieme, di stare insieme, di vincere il secondo tempo. Lo stavamo vincendo, addirittura all'89esimo abbiamo fatto il gol del 2-0 della vittoria del primo tempo, che ci ha consentito di fare un punto, secondo me, fondamentale per preparare questa settimana con l'inerzia positiva. E su questa inerzia ho chiesto oggi ai miei giocatori di fare la partita, che quando la sappiamo fare siamo pericolosi per tutti, l'abbiamo fatta e ci siamo meritati questa vittoria perché l'abbiamo cercata su un campo difficile, dove era difficile anche sviluppare col vento, ma abbiamo continuato a farlo. Ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto. E questo è lo spirito, la ricerca dell'identità, dell'anima, che secondo me fa sempre la differenza in un club, in una squadra. Da punto di vista tecnico-tattico siamo migliorati, ma vedo che abbiamo tantissimi spunti ancora per fare meglio. E il fatto dell'esultanza è dovuto a che sono andato a dividere Ney Del Searu, che stava facendo casino, e non volevo perdere il giocatore, dunque ho preferito mettermi in mezzo e ne ho approfittato per esultare come i vecchi tempi. La squadra ha trovato un'identità precisa, la sa sviluppare, sa difendere bene, si sa muovere bene in possesso. Abbiamo solo preso un filtrante con Chedira, dove è stato molto bravo Pigliacelli a parare, ma mi è piaciuto lo spirito, abbiamo sempre provato a giocare, vedevo che più andava avanti la partita, loro si aspettavano, cercavano di ripartire, abbiamo consolidato il possesso della metà campo avversaria, ho costruito occasioni, sentivo che poteva arrivare, sono stati bravi i ragazzi a farlo. Queste due partite sono di una straordinaria importanza, perché siamo in pochi, abbiamo avuto tante defezioni, ma questo spirito è qualcosa di straordinario, ma l'umiltà che dobbiamo avere ha rispetto al campionato e di conseguenza non sposto il fatto che per me il sogno è vincere la partita successiva, adesso sarà Ascoli, come sognare oggi per me voleva dire battere il Bari, godere insieme ai nostri tifosi, fare i complimenti a chi è venuto stasera e non era facile venire, ci hanno spinto, ci hanno aiutato, speriamo che diventino sempre di più, perché quando siamo uniti e siamo forti, insieme io so che questo stadio mi porta a qualcosa di straordinario, che vuol dire la prossima partita in casa cercheremo di vincere insieme. Sto sfruttando, tra virgolette, in questo periodo, è un periodo positivo, oggi ho cercato di non buttarla dentro in tutti i modi, però la palla è rimasta lì e alla fine è tirata una ciabattata di destro, quindi sono contentissimo. Sapevamo che era una squadra molto, molto forte, che ripartiva a mille all'ora, perché hanno giocatori che sono delle frecce. Una volta è capitato che ci imbucassero, però nei 90 minuti si può anche concedere un'azione, poi ovviamente c'è anche Mirko che ci dà una mano e per il resto ovviamente aiuta a vincere. Il gruppo si sta formando, ovviamente non adesso, però si sta formando un bel gruppo. Io spero che chi venga, chi arrivi, ma anche chi rimane, sia al 100% sposi la causa del Palermo, perché come ho detto prima, i tifosi questo lo sanno, se diamo tutto per la maglia e se noi diamo tutto per la maglia loro contraccambiano con il calore che abbiamo sentito anche stasera, perché nonostante il tempo assolutamente ci hanno dato una grossa mano. Torniamo a occuparci del caso Saguto, andiamo a vedere gli ultimi sviluppi su questa vicenda giudiziaria. L'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, era mossa da uno spasmodico desiderio di assicurare alla propria famiglia un tenore di vita molto più elevato delle proprie possibilità. Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta, che hanno condannato Silvana Saguto a 8 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione, concussione e altri reati. Le motivazioni della sentenza sono state depositate ieri. In 1.214 pagine il collegio ricostruisce il comportamento del giudice, frattanto radiato dalla magistratura, le sue relazioni, le nomine e le assegnazioni di incarichi. Andiamo adesso a vedere invece le parole della presidente della regione siciliana Renato Schifani, che ieri ha parlato in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Non ci faremo mai distrarre da polemiche, affermazioni e da battute di una certa comunicazione che tende a tirare per la giacchetta per farci rispondere a delle provocazioni, ha affermato il governatore siciliano. Non faremo mai polemiche, ha aggiunto Schifani. Non scivoleremo su questi piccoli trabocchetti e mezzucci per distrarci dall'impegno che mi sono dato con una giunta che è compatta e che sta crescendo. Mai in giunta, assicurato il presidente della regione siciliana, c'è stato un solo momento di tensione. Il clima è eccezionale e sono convinto che continueremo in questo percorso. Queste dunque le parole di Schifani in merito alle ultime polemiche e alle voci anche di una possibile spaccatura interna alla giunta. Ieri ha parlato anche Gianfranco Miciche, ovvero il coordinatore in Sicilia per Forza Italia. Miciche che ha affidato il suo pensiero a una nota, ha fatto quasi una sorta di richiesta o appello, possiamo definirlo così, al presidente Schifani in merito al caso Cannes. Mi permetto di dare un consiglio spassionato al presidente della regione, Renato Schifani, scrive Miciche, affidi l'assessorato al turismo a un rappresentante di un altro partito. Una sostituzione, ha aggiunto Miciche, che garantisca ed eviti ingerenze romane sarebbe l'unica azione trasparente da presentare ai siciliani dopo i fatti di Cannes e le polemiche che ne sono seguite. Questa dunque la richiesta, definiamola così, da parte del coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miciche, al presidente Schifani. Mentre ricordiamo che chiaramente l'assessore regionale al turismo attualmente è Francesco Paolo Scarpinato di Fratelli d'Italia, il quale nei giorni scorsi tra l'altro ha detto io non mi dimetto, non ho motivo per farlo. E con questa notizia ci fermiamo, per il momento è tutto, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. A più tardi. Grazie. 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 Grazie.